Siamo l'aiuto dell'Istituto Martoglio! Il profetto ci ha chiesto di fare gli auguri di Natale alla provincia di Siracusa. Quindi a noi, ai nostri amici, alle nostre famiglie, a tutti! Sì, a tutti! Ma che cosa possiamo augurare? Pensiamoci! Noi sappiamo pensare! A scuola noi andiamo per imparare a pensare e pensare è troppo bello! Cara mamma, solo che ha paura è coraggioso. Se non hai paura, che coraggio ti serve? Spero che tu lo capisca! Caro papà, ho scoperto che posso controllare il mio destino. Non è semplice, ma ci riuscirò. Roma non è stato costruito in un giorno. Lo sapevi? Caro Sebbi, tu sei un genere italiano, ma non ti applichi. Con te ho imparato le parole per sognare e per difendere i miei amici. Che quelle parole non ne hanno. Vorrei tanto che conoscessi i miei amici. Cari tutti, vorrei che non foste mai indifferenti. Vorrei che non vi arrendeste. Vi svegli il nostro trucco. Un passo alla volta è il segreto del buon cammino. Avete ragione ragazzi, pensare è troppo bello. Anche sapere ascoltare e agire per il bene comune lo sono. Perciò tutti insieme facciamo in modo di essere orgogliosi, non tanto di quello che c'è sotto, ma intorno all'albero. Buon Natale e buone feste! Buon Natale e buone feste!